Ciao a tutti, qui è Carsely Ray, un'altra volta nel cesso del treno. Ragazzi, oggi è pieno, guardate, non so neanche da dove cominciare. Potrei cominciare da... Guardate che genialata, un metodo ingegnoso per attenere, perché essendo che questo finestrino non si vuole chiudere, allora usiamo il peso della cultura. O da... Insomma, se può sapere che cos'è sto coso qui... O addirittura da... Scusate, in questo non ci vedo, per terra è un po' bagnaticcio, non vi dico di cosa. Detto questo, vi saluto di nuovo dal cesso del treno, come sempre... Maleodorante. Ciao da Carsely Ray!